Come la mettiamo? L'uscita semplice, c'era anche. Ok, quella di prima era un po' marroncina, quindi vedevi un po' il colore in modo carino. Un po' abbronzata. Ti fa il selfie e ti vedi abbronzato. Ah lucida, iphone 3D, dove sta, dove sta, dove sta, eccola. Ecco alla. Poi il cover che vogliamo mettere? Non lo so. Allora questo è un 13 Pro bianco. Mi piacerebbe anche restare sul bianco e mettere una Martyshine, quella in basso che mi glitterà le fotocamere da 14 a 99. Bellissima. No, mi piacerebbe una che ha le fotocamere libere. Ah, le vuoi libera, ok. Allora, o metti una Jane, viene 15, oppure sono arrivate le Martyshine, queste qua nuove, sono bellissime sul telefono. Bianca, grigia, azzurra e vengono 25. Oppure puoi mettere la Jump super resistente, quella in vetrina, viene 20. Oppure modello di jeans sempre da 20. Dai, la quelli di jeans. No, la jeans no. Mi piace anche la Jump bianca o rosa. Sul telefono è bellissima. Poi è anche qualitativamente ottima come cover, per resistente. La bianca? Bianca, sì. Proviamo? Bella, mi piace. Sì. Stiamo mettendo una ceramic lucida da 9,99 su questo iPhone 13 Pro, perché abbiamo tolto l'orrore precedente. E, ragazze, io non ci posso fare niente, a me non mi piaccia. E quindi, secondo me. Anche le ragazze... Sono di Martina, non succede niente al mio telefono, ok. C'ho anche la pellicola intatta, è la seconda volta che cliccate così caso mai. Comunque, anche le ragazze qua presenti hanno sentito mia sorella come mi tratta male. Sì, ok. Io, ok. Vabbè. Siamo pronti per vedere il risultato finale? Adoro. Ma mi piace troppo. Poi il bianco è un colore pulito, bello. Poi la jump non è... non si fa scambiare subito come cover. Proprio ora si sente tutto e per tutto, bellissimo. Bella. 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 La finezza, la semplicità, una cover bella, potente. Tocca, guarda come è morbida. È la vita, bumper interno, bumper esterno. Il jump perché rimbalza, quindi ti protegge veramente il telefono dai ghiurti. E guardate, le fotocamere non puoi riescono. costa 19,99 e porta anche l'attacco MagSafe perché qua pensiamo a tutto. Quindi se ti piace la trovi sul mio sito in varie colorazioni. Pensaci. Faccio un pezzerino perché questa è fantastica. Ma, non ho saputo. そう. Mi piace.